Ciao a tutti, come state? Mi fa piacere potervi incontrare, se non di persona come avevamo programmato con la biblioteca tempo fa, però almeno così possiamo condividere alcune delle nostre passioni. Spero siate bene e che passiate dei giorni in modo creativo. Io sto facendo anch'io questo, con me e con i miei ragazzi ci stiamo inventando veramente tante cose, oltre che seguire le lezioni, io un po' lavoro. Quindi dicevamo, parliamo delle nostre passioni e di libri. Io vi parlo dei miei preferiti, cioè i silent books. Sono anche autore di un silent book che è questo, edito per Pulci Volanti, Il sogno di Max e io sono in brattacarta, ovvero Davide Bisi per chi mi conosce di persona. I silent books sono libri che spaventano, eppure sono libri meravigliosi, spaventano chi? Spaventano gli adulti, perché? Perché non hanno parole e allora quando lo raccontano ad un bambino o ad un ragazzo hanno paura di sbagliare, di sbagliare l'intonazione, di sbagliare a volter pagine, quindi di trovarsi in impiccio. Innanzitutto i silent books sono i libri che meglio di tutti gli altri vanno bene per i ragazzi, perché immergono il ragazzo in un codice visivo e lui è la persona più indicata per poter sfogliare questo libro nel modo più naturale possibile, fruendo un linguaggio che per lui è proprio, cioè quello delle immagini, il linguaggio visivo. E noi, adulti, faremo bene a imparare da loro, soprattutto in questa idea che noi abbiamo e che loro non hanno di sbagliare, ma proprio con naturalezza sfogliare le pagine, andare avanti e indietro nella storia, non importandosi della sequenza per forza logica in cui dovremmo in teoria imbrigliarci. Quindi silent book ce ne sono veramente tantissimi, alcuni possono essere come questo quasi dei libri gioco che permettono di dare vari spunti creativi, guardate animali è uno dei miei preferiti e qua di spunti creativi con i bambini ce n'è veramente tantissimi, prima e dopo, che ci mette di fronte a un prima e a un dopo di una situazione, oppure per esempio la Prodo di Sean Tan, che è un libro bellissimo, che ci permette di entrare in punta di piedi in un mondo molto difficile che è quello dell'immigrazione, lui lo fa con un'estrema e grandissima poesia. Ma il suggerimento che voglio provare a darvi io e che quello che sto indagando da un po' di tempo è quello di leggere questi libri con la musica. Il mio libro, cioè Il sogno di Max, è nato proprio dall'ispirazione musicale, ovvero io ho ascoltato per tantissimo tempo un brano, il waltzer numero due della seconda Jazz Suite di Shostakovich, mi sono innamorato di questo brano, che è un brano molto celebre e che mi ha raccontato questa musica, la storia di Max dall'inizio alla fine. Quando ho trovato poi il protagonista, ho cominciato ad illustrare questa storia e la storia poi è stata pubblicata da Pulci Volanti. Allora, innanzitutto aprendo un silent book, noi ci troviamo di fronte ad una serie di immagini. Queste immagini però non sono mute, come vedete questa scena per esempio è molto rumorosa, abbiamo un'acquazione forte fuori dallo scuolabus e tutti sappiamo il rumore che fa la pioggia, che è un rumore cadenzato, un po' cupo, un po' malinconico ed entra invece a questo scuolabus, abbiamo delle gride felici di alcuni elefantini, la delusione di Max perché sta piovendo a dirotto e lui non vuole che piova e la faccia ormai stanchissima e estremata del povero autista di questo scuolabus che dentro veramente sta vivendo una specie di inferno. Quindi c'è tanto rumore in queste immagini, anche se non c'è neanche una parola scritta. Anche qui si possono intuire sia il rumore della pioggia che il rumore delle pozzanghere, degli sguazzi di questi elefantini, ma anche il rumore della solitudine, della tristezza di questo piccolo elefantino. La musica prende molto slancio, prende molto vigore, si riempie l'orchestra di suoni e finalmente poi assieme a Max andiamo in questa che è una vera e propria apoteosi di felicità. C'è il sole, ci sono le giostre, ci sono gli altri elefantini, c'è il palloncino rosso che vediamo anche in copertina e poi la musica ritorna di nuovo dopo una brusca frenata, ritorna di nuovo in mezzo alla pioggia. Che cosa è successo? È la musica raccontarcelo, perché poi se andate a sentire bene questo brano musicale che è molto bello, veramente vi fa capire come questa storia è tutt'altro che una storia triste e malinconica, ma anzi si riempie di una forza, di una felicità, di una gioia interiore molto molto bella e molto molto forte. Questo è il messaggio importante che ha questo libro, Il sogno di Max. Così non fatevi spaventare dei libri senza parole, siate curiosi come i vostri bambini, mettetegli in mano e vedete come loro li sfogliano. Bambini e anche ragazzi, proponete assieme a loro la ricerca di un brano musicale che possa aiutarci a raccontare nel modo migliore questa storia. Altri due libri, oltre al mio, che vi consiglio per questo tipo di ricerca sono questo, La sinfonia degli alberi e Il barbaro. Sono due libri, guardate, i formati sono simili e non è un caso, e sono due libri molto interessanti, che permettono, assieme al mio sono tre libri molto interessanti, che permettono veramente di fare questo tipo di ricerca, ma anche altri. Andate a sfogliarle, andate e fatemi sapere per caso nel mio feed di Instagram o sulla mia pagina Facebook, se per caso avete trovato qualche idea carina e interessante, sarà bello condividere una ricerca che sto facendo e che spero vi abbia stimolato qualche attività creativa per passare questi giorni in compagnia dei vostri ragazzi. Bene, buona continuazione, ci vediamo spero presto in biblioteca per altri consigli e altri suggerimenti. Un abbraccio a tutti!